Ciao, oggi siamo qui nel Pulmino, nel Labano Calcio, stiamo andando in montagna, stiamo andando a Tonezza per un torneo di calcio sabato e domenica, oggi è l'11 e il 12 maggio 2013. Intanto c'è il nostro mister là in fondo, Enrico, Joshua, Cristian, Alessio, che è stato anche protagonista in un videocazzetto di Marco Canali, di Proprio. E Canali Marco, Canali, un pulman per colatoni, un pulman per colatoni, un pulman dei froci, guardate, un rosa, guardate che froci. Ciao bimbi! Oh sono vecchietti, ci stanno salutando. Allora, poi c'è Canali Marco, che anche lui è un canale YouTube. Canali Marco. Eh, qui sono io, che raccomo il 991. Ma davvero? Cazzate! Oggi faremo cazzate. Che cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Vediamo Cristian che si fa... Vai fallo! Vai! Che minchia quanti! Che minchia quanti! Sto ceppo! Che minchia quanti! Sto ceppo! Quello che tu non hai! Che minchia quanti! Guardate che fai Ergo? Ergo fai! Vai continuo! Ecco anche Yoshi, Yoshi! Aspetta, aspetta! Chi è che ha scorreggiato? Carali! Povere che putta! Chi è che ha scorreggiato? Che è che ha scorreggiato? Dai, ho dato il figlio! Dai, che scoperta! Guardate, tutti stanno sopportando forse! Ci sono stato 3! Ti giuro, oggi non so! Guardate i canali che si prega come un coglione! Guardatelo! Dalla puzza immensa! Che p***o! Petrochi, non sei stato 3! C'è un altro bippo là davanti! Sto giocando con la PSP! Che sfigato! Dimmi, dimmi! Ecco, si chiama Alessandro Petracchi! Un coglione del cazzo! Un coglione del cazzo! Di proprio le nostre belle valigie! E se vuoi borse, scusate! Noi state siamo tutti! Bella fitta! Qua sono io! Non potrò fare dei video cazzesci quando sono in montagna perché è proibito fare i video, eccetera! Stai fermo! Concludi con la faccina felice! Concludiamo con la faccina felice del montante di Ergo! Che bello! Adesso! Ah, c'è anche l'improfio! Vai, fallo! Ma quello di Elmo! Ah no! Mi so, sembrava quello di Elmo! Un caro saluto a Joshua! Su cui c'è stato, anche lui è stato protagonista di un video di Canali Marco! Ha fatto anche due video! Di, ehm... Gli Younger Game! Se volete andare a vedere il canale di Canali Marco! Canali Marco che sta intanto ascoltando la musica! Metti via la mano, Josh! Metti via la mano! Si chiama Rompicavoli! Vabbè, su! Minecraft si chiama Rompicavoli! Se lo vedete... Vai, metti giù il piede! Questo è Christian! E come è? Il nostro mister! Enrico saluta! E' K911! Questo è tutto! Arrivederci! E' grava! Arrivederci e grazie a tutti! Belli!